Con il difensore Alessandro Pasqualino ci prepariamo a vivere la quindicesima giornata di Serie D, Girone C, FC Arzegnano Valchiampo, Calcio Este 1920, che si giocherà in anticipo domani, sabato 18 dicembre. Alessandro, grazie di cuore per portarci alla gara. Grazie a te Chiara. Di nuovo al Dalmolin dopo la trasferta della quattordicesima giornata sul campo della Driese. Allo stadio Bettinazzi 2-1 per i giallocelesti, il risultato al triplice fischio. Tuo, l'assist per la prima rete firmata da Vincenzo Calì. Alessandro, partendo dalla gara di domenica scorsa, ripercorriamo come di consueto la vostra settimana di lavoro. Sì, la scorsa partita contro la Driese è stata una partita molto difficile. Sapevamo di affrontare una squadra che lotta per la zona alta e la classifica, una squadra forte e organizzata. Ma noi siamo stati brevi a portare gli episodi alla nostra parte e alla fine soffrire da vera squadra. Sono contento di aver contribuito alla vittoria con un assist per il mio amico, nonché il compagno di squadra Vincenzo Calì. Però è stata già accontenata dal giorno dopo perché sappiamo che sabato ci aspetta una grande partita contro l'Este e dobbiamo rimanere concentrati. Al tuo secondo anno in maglia giallo celeste sei cresciuto calcisticamente nel vivaio della Spal, andando in panchina contro la Roma in una partita di Serie A. E successivamente hai militato nel Sorrento, poi il tuo arrivo in via dello sport. La sfida con l'Este quindi l'hai già vissuta lo scorso anno nel Gironi C. Raccontiamo perciò FC Arzegnano Valchiampo-Este guardando al domani e alla stagione 21-22. Sì, la partita di domani contro l'Este sarà sicuramente una partita difficile e importante quanto lo era la scorsa. Sappiamo di affrontare una squadra forte, già l'abbiamo conosciuta lo scorso anno che ci ha messo in grossa difficoltà e quindi bisogna affrontarla col piglio giusto e non sottovalutare l'avversario. Noi siamo focalizzati sul nostro obiettivo e già durante la settimana si è vista una squadra molto concentrata e con la voglia di dimostrare il proprio valore, come ogni domenica, e di portare a casa i tre punti. L'anticipo di domani segnerà l'ultima partita casalinga prima della sosta delle feste, in attesa di chiudere poi il girone d'andata il prossimo 9 gennaio. Come scenderete in campo domani pomeriggio e Alessandro, lasciamo il tuo messaggio finale alla vigilia dell'incontro che vedrà presente anche tutto il settore giovanile del club. Sì, è sempre bello vedere le persone che vengono allo stadio, soprattutto i ragazzi al settore giovanile che vengono a tifare i nostri colori giallo-celesti. Sicuramente ci daranno una carica in più. Noi sicuramente domani scenderemo in campo con la voglia di fare bene e di portare a casa i tre punti. Questa è la prossima partita prima di Natale per chiudere il 2021 ai migliori dei modi insieme a loro. E allora ci vediamo domani pomeriggio ore 14.30 qui allo stadio Dal Molin per FC Arzegnano Valchiampo Calcio Este. L'appuntamento è allo stadio e nei nostri canali ufficiali Facebook e Instagram. Alessandro, grazie davvero e buon lavoro in bocca al lupo a te e a tutta la squadra. Grazie Crepilupo. Grazie.